Me lo avete chiesto in tanti e oggi vi farò vedere come io, sempre e solo in my opinion, ripongo i nostri amatissimi attrizi del mestiere dopo la sbarbata. Come vedete qui sul tavolo ho tutto appunto l'armamento post rasatura e mi sono munito di qualche foglio di carta igienica e iniziamo con sistemare e mettere a posto il rasoio di sicurezza. Lo andiamo a disarmare, io so per certo, ma lo vedremo anche qui, che ho utilizzato questa parte qui. Quindi la lametta va sempre estratta dal rasoio, il rasoio non va mai lasciato armato sia per un fatto di sicurezza sia soprattutto perché con i rivestimenti delle lamette potrebbero ossidarsi, andare a macchiare o a sporcare il rasoio. Quindi ricordate, prima regola, levare sempre la lametta dal rasoio. La appoggiamo dopo l'utilizzo su un po' di carta igienica, così, in questo modo, e la andiamo ad asciugare, tamponando leggermente, ok? Da una parte e dall'altra, ricordando sempre che il lato che ho utilizzato è questo qua. E vi spiego il perché. Vado a prendere la confezione della lametta, mi faccio un bel segno qui, in questo modo, vedete, con la piega. Questo è il lato che ho utilizzato, lo vado a schiaffare in corrispondenza alla pieghetta. Mi richiudo la mia bella lametta, in questo modo, e saprò che la prossima sbarbata inizierò e utilizzerò questo filo nuovo, perché io normalmente utilizzo un filo a sbarbata. In questo caso, invece di utilizzare il classico double edge, con una lametta mi sbarbo due volte con un filo sempre al bacio. Sistemata la lametta, passiamo al rasoio. Ebbene, fai una bella sciacquata sotto l'acqua corrente. Io in questo caso non utilizzerò l'acqua corrente, ma ho qui una bacinella con dell'acqua dove lo andrò a sciacquare. A me non serve andare a bagnare tutta questa parte dove c'è un meccanismo, io sciacquo solo la base, dopodiché, con un bel asciugamano, vado delicatamente a asciugare e a pulire, per levare gli eventuali residui di grasso lasciati dal sapone. e questo è fatto, vado un po' a sbattere e via. Testina, stesso discorso, sciacquado e via. andiamo a asciugare bene il rasoio e io, perché sono un po' maniaco su queste cose, lo andrò a riporre vicino alla finestra così e lo rimonterò solo quando sarà completamente asciutto. E questo è per quanto riguarda il buon rasoio. Adesso, invece, andiamo a vedere cosa accade con un bel pennellozzo appena utilizzato, che sta tutto bello carico di schiuma. Allora, io normalmente, la prima cosa che faccio, quando ho finito con il pennello e sto sistemando il rasoio, la prima cosa che faccio, io ho sempre comunque una tazza che utilizzo per prendere l'acqua quando faccio il montaggio, lo vado a buttare dentro, così, e lo lascio il tempo della pulizia del rasoio. Dopodiché ci spostiamo sotto l'acqua corrente, ma ci spostiamo proprio fisicamente, perché qui in postazione non ho l'acqua corrente, e andiamo a vedere da vicino come sciacquarlo per bene. A trappè. Andiamo a sciacquare con acqua tiepida il nostro bel pennellino, facendo attenzione a far penetrare l'acqua all'interno del ciuffo in profondità. In questo modo. Non utilizziamo acqua troppo calda e cerchiamo di frizionare delicatamente il ciuffo. Dopodiché lo strizzeremo delicatamente così con la mano e poi lo andremo a sbattere per tirare via l'acqua in eccesso. E ora che abbiamo sciacquato bene il pennello e lo abbiamo sbatacchiato un pochettino, andiamo delicatamente su un asciugamano a fare questo tipo di operazione. andiamo a dargli un'ulteriore asciugata, facendo delicatamente questo tipo di movimento qui. controlliamo che non ci sono residui e anche se visivamente abbiamo qualche problema a trovarli, se vediamo che comunque il ciuffo è tutto bello aperto e non c'è delle chiazze così raggruppate, dei ciuffi così raggruppati che appunto sono incollati dal sapone, con questa tipologia di effetto abbiamo proprio il ciuffo che è bello che è sistemato. L'ultima cosa che resta da fare, che è veramente il top, è procurarsi uno di questi stand, li troviamo, costano pochi euro, e farlo asciugare così a testa in giù. Se è vicino a una finestra arieggiata, meglio ancora, l'importante è non lasciarlo sotto il sole diretto o comunque vicino a fonti di calore. Una volta che il pennello sarà asciugato e vediamo che è tutto ok, lo possiamo riporre in maniera classica così, sul piano, perché non ci sarà acqua residua che andrà ad infiltrarsi nel nudo che ricordo essere la parte più delicata del pennello. Cari amici followers, e non followers, soprattutto gli ultimi, questo è un pochettino quello che io faccio ogni volta quando ho finito la sbarbata e, ahimè, è la parte più lunga della sbarbata, perché la praticità forse di una rasatura moderna non è tanto il tempo che si impiega al montare il sapone, che c'è qualche minuto in più rispetto alla schiuma istantanea, ma probabilmente, almeno per quello che è la mia esperienza, è quello che viene dopo. Una buona manutenzione del nostro armamentario ci porterà effettivamente ad apprezzare nel tempo, a lungo termine, l'economicità della rasatura tradizionale, perché riusciremo ad avere la nostra attrezzatura sempre a puntino e pronta per la prossima sbarbata. E anche noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!